salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a formula 1 manager ok ragazzi abbiamo provato a farmi simulator 20 l'ho provato ed è lo stesso di nick cioè che funziona che si ferma infatti ho visto che c'è scritto 2.8 molto male 2.8 su play store perché solo farmi simulator 18 è costato cioè al valore di 4.4 capito allora c'è quel distacco allora ragazzi oggi vi porto formula 1 manager per cambiare un po perché mi è piaciuto molto la prima volta che l'ho provato e allora ci proviamo dai comunque finché non salirà farming simulator 20 e arriveranno aggiornamenti tutto non si giocherà farming simulator 20 perché è ingiocabile però c'è la nostra chicca giocheremo sempre alla vecchia carriera cioè farming simulator 18 e in più se volete il giovedì vi portiamo sto gioco per oggi vi ho portato questo per farvelo un po conoscere dai allora partiamo giochiamo a questo aspetta che ho finito i soldi raga non è per comprare soldi e si fa così guardate vedete qui sopra ciò dei bigliettini blu allora li compro non è scioppare questo eh questo non è scioppare guardate mo eh e voilà 40.000 euro abbiamo eh ragazzi si fa così per prendere i soldi un gioco allora oggi cosa vogliamo fare duelli no aspetta che se cambiamo pilota aspetta fammi vedere un attimo che voglio cambiare un attimo pilota giovinazzi pilota 1 volevo mettere su norris che è molto forte come vedete ancora non è ora gasli va bene ci tagliamo giovinazzi per ora poi corriamo allora e prendiamo le piogge 16 mila euro costa e ci giochiamo 32 mila euro ok allora l'ho già provato questo mi è molto piaciuto e siamo in austra dove ho già vinto parecchie gare quindi è facile capito ragazzi allora visto stiamo facendo il la cosa e visto dove siamo siamo già primi ah siamo vicini mi sembra io io sono passato io per poco però va bene allora fatemi vedere un po' la strategia full wet full wet e forse mettiamo le rosse alla fine va bene ok subito giovinazzi mettiamo il super motore per partire bene ok via siamo partiti attenzione ricciardo va all'esterno su di me però credo di aver di tenerla si si l'ho tenuta intanto il nostro giovi sta provando il sorpasso sì 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 siamo davanti vai giovi arriva giovi arriva giovi arriva giovi più forza più veloce ancora non è ora di sorpassarlo vai giovi è il tuo momento ora bene sei uscito bene sei uscito bene dal di lì bene sei uscito sei uscito sei uscito sei uscito va bene raga tentativo fallito però adesso siamo primi con berez e adesso e adesso tra po' sarà ora della sosta molto veloce siamo tutti vicini ho un problema si va dentro e io invece tiro dritto per vedere che strategia faremo allora intanto giovi può fermarsi prossimo giro quindi sto giro full wet per giovi si si è la scelta più più giusta per me perché perché se giovi va dentro siamo un po' fortunati perché abbiamo peres davanti allora vai vai giovi bravo giovi 5.91 ottimo p-stop lo so ragazzi non è un buon p-stop però p-stop anche per peres in questo giro attenzione adesso vediamo come finirà tirano dritto tutti e due quindi p-stop per tutti e due adesso vediamo giovinazzi dov'è giovinazzi nella coda di ricciardo ok ok adesso è in testa lui che ho visto e proviamo una fuga provano una fuga però peres lo vi l'avevo visto bene peres mettiamo il super motore per passare anche vai vai che è passato e uno è passato vai per ricciardo va a prendere ricciardo forza bravo peres perfetto super motore per peres siamo passati di nuovo in testa ok adesso lo diranno testa per me che anche se dice che è rosso però siamo in testa noi per ora ah no adesso non lo siamo più perché c'è il sol passato allora peres gli da il motore di più io gli do più il motore a peres e va dentro va dentro p-stop attenzione p-stop per ricciardo che aveva finito le gomme attenzione allora adesso non so cosa fare vai dentro vai dentro proviamo l'undercut proviamo l'undercut con Giovinassi in questo momento e siamo in testa forza forza peres riesce a tenere ancora un minuto la gomma spero di sì dai Giovin vai dentro ok Giovin è dentro p-stop gomme full wet ancora una volta e voilà c-6-0-1 bene sapete una cosa proviamo a finirla che siamo al nono giro ok ultimo giro dobbiamo provare tutto per tutto che sono sono lì sono lì dai dai che la vinciamo dai dieci nove sono lì otto sette sei ma chi se ne frega diamo tutto motore per provarci a vincerla dai dai l'abbiamo vinta ragazzi e adesso arriva Giovi che è molto lontano gli diamo tutto il motore ma non servirà più mi sa e ragazzi questo mi ignora tanto è arrivato un punto abbiamo fatto un po' schifo abbiamo fatto però abbiamo fatto dieci punti molto bene abbiamo vinto i nostri 32.000 euro e una cassa d'oro molto bene allora ragazzi io dico di fermarci qui iscrivetevi al canale mettete un like per far continuare questa serie e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao